tipo superman in avanti alzate non allargate le ore altrimenti rischiate di sbattere sul muretto dopo dopo oltrepassata la rete potete anche aprire le sgancio ok ok ci riusciamo non penso alla copro ci siamo? lui pensa alla copro ok braccia alzate braccia alzate in avanti al mio tre sgancio ma corre piano piano 1,2,3 buon volo rigidità 6,4 works 6,5 g è andata, pensavo di andare in fondo al muro si è andata, pensavo di andare in fondo al muro